Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Incidenti sul lavoro, operaio cade da un ponteggio trasportato in gravi condizioni al torrette di Ancona Restano in carcere i tre uomini arrestati a Pesaro per spaccio di droga Sismo nelle Marche, a Castel Sant'Angelo sul Nera consegnate tutte le casette Presente alla cerimonia una delegazione di fanesi che ha contribuito a raccogliere fondi Scogliere a Sassonia di Fano proseguono i lavori per la difesa della corsa Ossioporosi, una malattia che in Italia colpisce oltre 4 milioni di persone Al via un corso sul movimento ai sani stili di vita Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Benvenuti nel canale 17 del Digitale Terrestre Apriamo il nostro telegiornale con un infortunio sul lavoro Accaduto oggi intorno alle 12.30 nella zona industriale di Calcinelli Nel comune di Cogli al Metauro Un operaio di 32 anni è caduto da un ponteggio Mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un capannone L'uomo che ha riportato un forte trauma addominale È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale Torrette di Ancona Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Che viste le gravi condizioni dell'uomo Hanno allertato l'eliambulanza e i carabinieri Comandati dal luogotenente Antonello Pannaccio I militari hanno eseguito i rilievi di legge Insieme agli ispettori del lavoro dell'Ausbio E restano in carcere i tre uomini arrestati nei giorni scorsi Dai carabinieri di Fano con l'accusa di spaccio di droga Lo ha deciso questa mattina il giudice Gasparini Che ha convalidato tutti gli arresti Servizio di Lino Balestra Restano in carcere nelle celle di Villa Fastigi I tre spacciatori Un corriere pesarese e due grossisti albanesi Arrestati venendiscorso in flagranza di reato per spaccio Questa mattina alle 9.30 Si è tenuta l'udienza di convalida Presieduta dal giudice Giacomo Gasparini Nella casa circondariale dove erano stati portati su disposizione del PM Valeria Cigliola E dove resteranno in attesa del processo I carabinieri di Fano da dove era partita l'indagine Dopo mesi di pesimenti Giovedì hanno deciso di intervenire Dopo che il trio era di ritorno Da un grosso carico in Romagna A bordo di due auto Braccandoli e costringendoli a una fuga roccambolesca Nelle strade del centro di Pesaro Terminata con la loro cattura Una volta che si sono imbottigliati in un semaforo rosso Con questa operazione i carabinieri hanno stroncato Un importante canale di approvvigionamento dello stupefacente Per la piazza pesarese Oltre al sequestro di due eti di cocaina purissima Del valore stimato in 10.000 euro e 2.000 euro in contanti Oltre a 5 preziosissimi cellulari Con le agende fitte di contatti Che gli esperti dell'arma stanno ora setacciando Per ricostruire la vasta rete di clientela Che gravitava attorno all'organizzazione Un fenomeno, quella della diffusione dell'eroina Come sostanza dopante Che sta prendendo dimensioni preoccupanti Come ha sottolineato il comandante della compagnia di Fano Alfonso Falcucci Perché la cocaina rispetto al passato Da sostanza ad uso e consumo di una ristretta cerchia di persone benestanti Dati gli elevati costi del passato Ora, con l'emissione sul mercato della droga Di elevati quantitativi E gli enormi margini di profitto Sta diventando sempre più diffusa e pervasiva Con una reale sottostima del pericolo Da parte degli assuntori abituali di stupefacenti E un furto è stato messo a segno la notte scorsa Nel negozio Fiori e Piante Regini In via Kennedy a Montemaggiore al Metauro I malviventi, dopo essere entrati forzando una finestra Hanno rubato le monete dalla cassa Per un totale di circa 56 euro Poi hanno distrutto una macchinetta del caffè Data e incomodato d'uso all'azienda Ma anche qui il bottino è stato magro Di pochi euro In seguito i ladri hanno trovato Le chiavi del Fiat Doblò Di proprietà dei titolari E sono scappati a bordo del furgone La scoperta è stata fatta questa mattina Intorno alle 8 da Luana Regini All'apertura del negozio Scattata la denuncia ai carabinieri di Colli al Metauro I titolari lanciano un appello Rivolto a chiunque dovesse avvistare il furgone Di segnalarlo subito alle forze dell'ordine Il veicolo è di colore bianco Con le scritte verdi Dei fiori è un cactus Ed è targato DG618RI Domodossola Genova 618618 Ravenna Empoli E adesso torniamo a parlare del terremoto Che circa un anno e mezzo fa Colpì anche la regione Marche Provocando vittime, feriti E gravi danni sul territorio Noi sabato scorso siamo andati a Castel Sant'Angelo sul Nera Dove grazie anche ai fondi raccolti Dalla città di Fano Sono state consegnate le ultime 40 casette Vediamo Spero che questa casa ci stiamo poco E ci fanno la casa di nuovo Perché casa tua È casa tua Non c'è niente da fare Dopo il sisma inizia la rinascita In alcuni comuni delle Marche Dove sabato scorso sono state consegnate Decine di soluzioni abitative d'emergenza Le ultime 23 a Muccia Le ultime 40 a Castel Sant'Angelo sul Nera E le prime 7 a Camerino Sono in totale 70 le casette consegnate nel macerattese Alla presenza di Luca Ceriscioli Presidente della regione Di Angelo Borrelli Capo dipartimento della protezione civile nazionale Dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti E dei rispettivi sindaci Mario Baroni Mauro Falcucci E Gianluca Pasqui A distanza di 17 mesi Dall'ultima scossa di terremoto Noi siamo andati a Castel Sant'Angelo sul Nera Dove molte famiglie hanno trascorso La prima notte con un vero tetto sopra la testa Infatti c'è chi in questo lungo periodo Ha vissuto in tenda o in roulotte I più fortunati In albergo o a casa di amici e parenti 63 sono le casette consegnate complessivamente in questo comune Per 125 persone Altre 15 invece vivono in abitazioni agibili Per un totale di 140 cittadini A contribuire alla loro realizzazione anche alla città di Fano Dove fra l'altro vive il sindaco Falcucci dal 1976 Siamo stati una goccia in mezzo al mare della solidarietà Che c'è stata per Castel Sant'Angelo sul Nera Noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito attraverso il volley della Befana E lì grazie a questa manifestazione per due anni consecutivi Grazie al contributo anche del quartiere di Sant'Orso di Fano Che tramite la scuola abbiamo fatto la lotteria un anno sempre per il paese Un altro anno abbiamo fatto la tombola vivente Sempre per Castel Sant'Angelo sul Nera Insomma nel complesso siamo riusciti a dare circa 6.000 euro Toccante è stato il momento della consegna delle chiavi delle nuove casette Tra commozione, lacrime di gioia e un po' di rabbia Per non essere riusciti ad averle prima Con questi guerri che c'avevano Questo costruisce solo per rubare E gli cittadini stanno a mangiare la storia E non ne frega niente a nessuno Non so se stanno a legare il portrone Se stanno a legare il piatto E dice qui c'è gente che ha bisogno E come le sembra la casetta? Bellissima, si volete entrare Come no? Ci faccio a strada, prego Beh diciamo abbastanza spaziosa Come no? Io sto dentro nel capannone Meglio questa che nel capannone Salve, possiamo visitare anche la vostra casetta? Come si chiama lei signora? Io mi chiamo Sandra Lei oggi ha ritirato queste chiavi? Queste chiavi Dove si sente? Non mi sembra neanche vero In un albergo, in una casa? Sì, in un albergo Quindi oggi si cambia un po' la situazione? Eh beh, via Speriamo che si ritorna a casa Per davvero In bocca al lupo per tutto Grazie La sua abitazione è andata completamente distrutta Oppure è in agito? Non ho più nulla Avevo una stalla, un fienile Perché sono allevatore E non c'ho più niente Né casa né niente Con le istituzioni vi sono state vicine? La comunità? No La popolazione sì Il popolo italiano è eccezionale Però come istituzioni non è che abbiamo ricevuto più di tanto Sa già qual è il suo numero? Il numero della casetta? Sei Il sei L'ha già vista? No Infatti voglio provare se funzionano le chiavi Non vorrei che hanno cambiato la serratura Però hanno scambiato le chiavi Non si sa mai Non si sa mai Quindi vengo giù Fino ad oggi invece dove hai dormito? Io sono stato fortunato C'avevo una casetta che non era stata danneggiata Il proprietario di Castelfitardo me l'ha messa a disposizione Quindi ho abitato lì Inizialmente 3-4 mesi ho dormito nella roulotte Però nella roulotte non era possibile O dovevo vendere tutto, andare via Oppure fortunatamente mi è capitata questa occasione Inizia una nuova vita? Speriamo Speriamo Anche se c'è una certa età però Grazie Grazie a lei Arrivederci Quello delle casette è un passaggio temporaneo Ha detto il presidente Luca Ceriscioli Ci permette di passare alla fase successiva Tornare a casa attraverso la ricostruzione Oggi ha proseguito È il giorno del risultato E ringrazio tutti coloro Che hanno lavorato Portando il proprio mattoncino Con le casette di oggi siamo arrivati a 1300 Quindi è un numero importante Sentiamo questo passo Un passo che cambia Siamo proprio Fase Usciamo da quella più complicata Quella che ci angoscia di più Che quella dell'emergenza E nella ricostruzione Il desiderio di tornare ognuno alla propria casa C'è il Castel Sant'Angelo sul Nero Ad esempio Ha il tema della perimetrazione Significa progetti veri e propri per le intere aree Quindi sono cose un pochino più complicate Però necessarie per poter ritornare in sicurezza Nelle proprie terre d'origine Dopo la consegna delle chiavi Sono state inaugurate due strutture Una polivalente A servizio della comunità Denominata Amici del Trentino E un prefabbricato Adibito ad ambulatorio medico e farmacia E ho ringraziato in particolar modo Anche la città di Fanno E tutte le associazioni Perché da quando sono a conoscenza che ero E sono un cittadino da 42 anni Mi sono stati ancora più vicino Siamo in grado oggi di ospitare Sono strutture emergenziali Ma servono per aggregare Servono per far sì di ripartire Di scambiarci le opinioni E anche di scambiarci i sogni Perché bisogna pure riuscire a sognare E nega ogni contestazione L'ispettore del commisariato Di pubblica sicurezza di Senigallia Indagato e sottoposto A misura interdittiva Della sospensione per otto mesi Dall'attività di servizio per corruzione Rivelazione di segreti d'ufficio E accesso abusivo Al sistema informatico della polizia Il 54enne Da tempo al centro delle indagini Della squadra mobile di Ancona E' accusato di aver effettuato In un anno Centinaia di accessi A sistema informatico E al database della polizia Per raccogliere informazioni sensibili Su persone Che avrebbero poi passato Dietro compenso A un'agenzia investigativa Privata di Modena All'ispettore sono stati ritirati Distintivo e pistola di ordinanza Vi sono stati sequestrati Il computer Dispositivi USB E il cellulare Per cercare eventuali tracce Dei contatti Con l'agenzia modenese E adesso torniamo a Fano Perché in zona Sassogna Proseguono i lavori Di posa in opera Delle scogliere Per la difesa della costa Mondadea Allora una fase operativa In questo momento Qui sul cantiere Per le nuove scogliere Sì Stiamo finendo il primo Lotto Delle scogliere a sud Della parte Della pista di Coccard Siamo quasi in ultimazione Delle 5.000 tonnellate Previste Per la prima fase Finito questo cantiere Inizierà un altro Per la diga Rifascimento Della diga Foragna del Porto E si avverrà sempre Di questo punto di scarico Per le pietre Che vengono sempre via terra Ecco ormai Questa è una metodica Che avete intrapreso Perché insomma Le difficoltà permangono Con il fronte Marittimo Sì Sì Purtroppo I vettori Che avevamo Che portavano la pietra Dalla Croazia Sono impegnati altrove Per cui abbiamo dovuto Ripiegare Su questo metodo Via terra Approssimativamente Termine dei lavori Mare permettendo Mette o permettendo Ma Questo cantiere Finisce questa settimana Questi sono Devono arrivare Altre due cari Due camion A scaricare Poi Mettiamo tutti in opera Subentrerà Il prossimo cantiere Per la diga forania Come dicevo prima Che ha 7.000 tonnellate Di altra pietra Da portare Quindi Un'altra 40-50 giorni Sicuramente E la procura Di Urbino Ha emesso 19 avvisi Di garanzia Di cui uno Destinato al sindaco Della città Maurizio Gambini In conclusione Di una nuova indagine Sulle sponsorizzazioni Alla società Calcistica Associazione sportiva Dilettantistica Pieve di Cagna I reati contestati Risalgono agli anni Tra il 2013 E il 2017 Si tratta Di emissione E utilizzazione Di fatture Per operazioni Inesistenti La prassi Illecita Secondo il PM Irene Lilliu Che ha coordinato Le indagini Della guardia Di finanza Sarebbe la stessa Degli anni precedenti Per cui sono stati Rinviati a giudizio Lo scorso 16 febbraio 15 imprenditori 4 dirigenti sportivi E il direttore Di filiale Della banca Monte dei Paschi Per quanto riguarda Gambini Dalle indagini Emerso Che in qualità Di titolare Dell'azienda Agricola Terra Bio Avrebbe sponsorizzato La squadra di calcio Con due assegni Da 15.000 E 10.000 euro Di queste somme Secondo la guardia Di finanza La società Gli avrebbe restituito Rispettivamente 8.000 e 5.000 euro Il Ducato Ha avuto conferma Dal sindaco Dell'indagine A suo carico Ma il primo cittadino Non ha ancora Commentato la vicenda E adesso passiamo Ad un aggiornamento Della transitabilità Sulle strade provinciali Perché è stata riaperta Oggi A senso unico alternato La strada provinciale 5 Mondaviese Interessata nei giorni scorsi Da un cedimento di valle Dopo il centro abitato Di Sant'Ippolito In direzione Barchi Si circola A senso unico alternato Anche sulla strada Provinciale 42 Frontone Serra Dopo la frana Dei giorni scorsi Nei pressi di Buon Consiglio Nel comune di Frontone A Fano invece È stata chiusa Al traffico La strada provinciale 49 Cavallara In località Tre Ponti Per lavori Di riparazione Di alcune strutture Secondarie Dei ponti presenti E con l'hashtag Meno buche per tutti Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Ha annunciato su Facebook L'inizio delle asfaltature Tra i due porti Visto l'innanzamento Delle temperature Si legge nel post Da oggi Iniziamo a chiudere le buche Con l'asfalto a caldo Dopo Pasqua Prosegue Ricci Inizieremo le asfaltature Sulle strade Previste per 2 milioni di euro Più un milione Di ripristini straordinari A causa del maltempo E sempre a Pesaro E' stato ultimato Il restyling Del palazzo Delle poste Si tratta Del restauro conservativo Della facciata Di piazza del popolo Con le manutenzioni Alle coperture Agli infisti Oltre alla riqualificazione Delle pareti esterne Dell'edificio Su via Bruno E via Branca E della parte Del cortile interno Sul mercato delle erbe Ricci ha precisato Che si tratta Di un investimento Notevole Da poste italiane Di oltre 400 mila euro E che dopo la chiusura Alle auto Rappresenta un ulteriore Tassello Per la piazza Riqualificando Un edificio storico Della città I prossimi interventi Riguarderanno L'ex intendenza Di finanza Dove sarà realizzata La nuova questura E i lavori Al San Domenico Per creare Il polo Del cibo Cambiamo Decisamente Argomento Per prevenire E combattere L'osteoporosi Parte un corso Organizzato Dall'area Vasta 1 Dalla scorsa settimana I pazienti Dell'area Vasta 1 Hanno uno strumento In più Per combattere E prevenire Una delle patologie Più subdole Che possono aggredire La persona Di età avanzata Stiamo parlando Di osteoporosi Dalla scorsa settimana Infatti Il centro Promozione Della salute Di Galantara In collaborazione Con la società Sportiva Mille Piedi Ha organizzato Il corso Movimento E sani stili di vita Il progetto Rientra nel piano Regionale Della prevenzione 2014-2018 Che il dipartimento Di prevenzione Diretto dal dottor Agostini Sta implementando In tutta L'area Vasta 1 Ma cos'è L'osteoporosi E chi ne è Potenzialmente paziente Lo abbiamo chiesto Alla dottoressa Clizia Pugliè Referente del centro L'osteoporosi Purtroppo colpisce Nel mondo Circa 200 milioni Di donne In Italia Soltanto Nel nostro paese 4 milioni e mezzo Si stima Che 100.000 Fratture all'anno Siano causate Proprio dall'osteoporosi Fratture al femore È una malattia Un po' silente Perché è asintomatica Magari ci sono A volte alcune donne Lamentano dei dolori Osteoarticolari Ma in realtà Si manifesta Proprio con le fratture È una malattia Che colpisce le donne Soprattutto appunto Con la menopausa Perché la mancanza Di ormoni Purtroppo favorisce Il malassorbimento Del calcio Però colpisce Anche gli uomini Questo pochi lo sanno Nel senso che Chiaramente In età Più avanzata Verso i 65-70 anni Però c'è Tutti siamo colpite Da questa osteopenia Cioè quindi Questa naturale Inizio di fragilità Dell'osso Il corso È rivolto Ad ambo i sessi Uomini e donne Dalla mezza età In su E si tiene Due volte alla settimana All'interno Del laboratorio movimento Della RSA di Galantare Sia anche negli spazi All'aperto Della parco Della ex Villa Guerrini Inoltre Durante i corsi I partecipanti Saranno formati Anche con incontri Sui sani stili di vita Il nostro target È prevalentemente Dai 46 anni in su Età in cui può iniziare Appunto La menopausa Uomini e donne Abbiamo anche Degli uomini Che hanno appena iniziato Però Per esempio Anche persone Che vogliono avere Delle informazioni Per fare una prevenzione Già anche in età Diciamo Prima dei 45 96 anni Sono ben accette Anche perché Negli incontri Parleremo dei sani stili di vita Proprio in generale Si può scrivere A Promosalute Punto Av1 Chiocciola Sanita Punto Marche Punto iti E si può telefonare Al numero 320 97 60 6 11 E ancora cronaca Un incidente Si è verificato Questa mattina Intorno alle 13 E 15 In via Roma Fano Tra una moto E un'auto Una Peugeot I due veicoli Procedevano entrambi In direzione monte Quando all'altezza Del parcheggio Antistante Al negozio Tre Prezzi L'auto condotta Da un pesarese Di 39 anni Ha svoltato a sinistra La moto Che la seguiva La centrata Nella parte laterale Posteriore Sinistra Il motociclista Di 50 anni È rimasto ferito Lievemente Ed è stato Trasportato All'ospedale Dal 118 Sul posto La polizia locale Per i rilievi Di legge E adesso Passiamo Alla pagina sportiva Con Matteo Del Vecchio Terzo pareggio consecutivo Per l'Alma Juventus Nel campionato di Serie C Dopo San Benedettese E Reggiana I Granata Tornano con un punto Da Sant'Arcangelo Dove nello scontro salvezza Prevale la paura Di non perdere Prima azione Degna di nota Al diciannovesimo E Alma subito In vantaggio Grazia Germinale Che insacca il rigore Procurato da Fioretti Dopo una bella giocata In area L'1-0 ospite Suona come un campanello D'allarme Per i padroni di casa Che iniziano a farsi Più aggressivi E al 34esimo Reclamano un penalty Per un presunto contatto Tra Magli e Piccioni Giudicato però Regolare dall'arbitro La ripresa si apre Con un grosso spavento Per il portiere di casa Bastianoni Che ringrazia Il suo compagno Dalla Bona Che di testa Evita il 2-0 Sull'incornata di Magli Ben servito da Germinale Dopo il corner di Lazzari E proprio dai piedi Dello stesso Dalla Bona Al tredicesimo Nasce il gol Del pareggio Del Sant'Arcangelo Siglato da Toninelli Abile ad avventarsi Sulla sfera vagante in area E a trafiggere Tiam Succede poco o nulla Nella restante mezz'ora di gioco E Fano che resta così Ultimo a quota 25 Sempre ad una lunghezza Di ritardo Sul Sant'Arcangelo Il pareggio di ieri Fa guadagnare un punto Ai ragazzi di Oscar Brevi Sul Gubbio Sconfitto a Ravenna Ma ne fa perdere due Nei confronti del Teramo Che ieri Ha superato per 1-0 La Triestina Dal calcio Ci spostiamo al calcio a 5 Con il Flaminia Che perde il big match esterno Contro la Noalese E vede la formazione Veronese avvicinarsi In classifica Ad un solo punto Dopo aver chiuso Il primo tempo In vantaggio per 3-2 Le ragazze allenate Da Alessandri Imbriani Si fanno recuperare Nella ripresa E ora Quando al termine Del campionato di A2 Mancano solo tre giornate La sfida al vertice Si fa quanto mai avvincente Con le Fanesi Che per essere sicure Di approdare in A1 Dovranno necessariamente Vincere le prossime sfide Contro San Pietro Top 5 E Sasso Leone E da una sconfitta Nel Fuzzal Passiamo ad una nel volley Con la Giban Virtus Che non riesce Nell'impresa Di espugnare il campo Della corazzata Sama Porto Maggiore Ma è una sconfitta Assolutamente indolore Per i Fanesi Che grazie ai risultati Dagli altri campi Possono festeggiare La matematica salvezza Con 5 giornate d'anticipo Il 3-0 Con cui i ragazzi di Radici Tornano da Ferrara È frutto di una gara Quasi totalmente dominata Dai padroni di casa Con Fano Che prova a tenere botta Senza però riuscirci Nel primo E nel terzo parziale Persi con solo Tre punti di scarto Come detto in precedenza Però Fano sorride ugualmente Per quello che può già Considerarsi un risultato storico Ovvero La permanenza in Serie B Arrivata con quasi Due mesi d'anticipo E chi può festeggiare La salvezza in anticipo È anche il Fano Rugby Che nei giorni scorsi In seguito al ritiro Dal campionato del Gran Sasso Ha avuto dalla federazione La certezza Che anche il prossimo anno Sarà C1 Un risultato Che ha galvanizzato La truppa del presidente Giorgio Brunacci Che ieri Dopo un mese di stop È tornata in campo Riuscendo a centrare La prima vittoria Nei play-out Partita dai due volti Quella andata in scena Al Falcone Borsalino di Fano Con i padroni di casa Che nel primo tempo Dominano in Ravenna Chiudendo avanti Per 20-5 Ma che nella ripresa Si fanno agguantare E superare Finendo sotto Per 20-23 La meta scacciacrisi Arriva a 5 minuti Dal termine Con il capitano Gabriele Breccia Che va a legittimare Una vittoria meritata E che tutta la squadra Ha voluto dedicare A Nicola Barnesi Forse il giocatore del Fano Con il rendimento Più alto Fin qui in stagione E che ieri È stato costretto A lasciare il campo Per un infortunio Che molto probabilmente Gli precluderà Il resto della stagione Parentesi ora Dedicata al Judo Con Fano Che ieri ha ospitato Le qualificazioni regionali Per il campionato italiano Cadetti Nella palestra Del circolo didattico Sant'Orso 28 judoka Provenienti da tutte le marche Hanno preso parte A una competizione Riservata ai nati Dal 2001 al 2003 Con il grado minimo Di cintura blu Un evento Che oltre a consegnare Di fatto il pass Per i campionati nazionali In programma Alido di Ostia Il 21 e 22 aprile Ha assegnato anche 11 titoli regionali Che sono andati Ad atleti Delle società Porto San Giorgio Sakura Osimo Budo Center Iesi Judo Fazzi Pesaro Judo Club Camerano Polisportiva Senigallia E Judo Club Urbisaglia Non solo Judo Ieri a Fano Ma anche tanti altri eventi Sportivi Come le finali Del 33esimo Campionato invernale Di pallavolo A squadre miste Trofeo Avis Fano Organizzato dal Comitato Provinciale CSI Che si sono svolte Al Palace Allende Per il torneo Amatori La vittoria è andata A assicurazioni Falcioni Allianz Che ha superato Per 3 a 1 Bagni Carlo Nella finale Del torneo Open Invece Pizzart Ha battuto McEnergy Con un secco 3 a 0 Alla cerimonia Delle premiazioni Oltre ai vertici Provinciali CSI Anche Marco Savelli Presidente di Avis Fano Associazione Che ormai da anni Va a braccetto Col CSI Per la promozione E la sensibilizzazione Verso la donazione Di sangue Premiato anche Sergio Nicolai Come miglior giocatore Della finale Sempre grazie al CSI Sono andate ieri in scena Alle finali Del primo campionato A squadre Di beach tennis Che ha visto La partecipazione Di oltre 100 giocatori In rappresentanza Di 14 squadre Che si sono date battaglia Sulla sabbia Delle strutture indoor Di Fano Lucrezia Marotta E Pesaro E proprio a Pesaro Ieri si sono disputate Le finali Sia del tabellone gold Che del silver Ovvero lo speciale Raggruppamento Per quelle formazioni Fuori dal rost Delle migliori La vittoria finale È andata Alla squadra Dell'Olympus Beach Palace Suicide Squad Che in finale Ha superato I surprise Formazione Della SD River Beach Bronzo Per B Stadium Marotta Nel torneo silver Invece Primo posto Per la squadra Di Lucrezia Beach Game Set Match E dal CSI Passiamo ad un altro ente Di promozione sportiva Molto attivo Su tutto il territorio Provinciale Come ASI Che anche quest'anno Organizza un corso Per diventare educatore Di centri estivi sportivi Figura Quanto mai fondamentale Come dimostrano Gli oltre mille bambini Partecipanti Lo scorso anno I jump Organizzati appunto Da ASI In collaborazione Con Sportfly E cooperativa Polis Sede del corso Di formazione In programma Il 29, 30 e 31 marzo Saranno i locali Della società Fano Rugby Con i partecipanti Che riceveranno Un diploma E il tesserino Con l'iscrizione All'albo nazionale ASI L'evento è aperto Ai giovani Dai 21 anni in su Laureati O laureandi In scienze motorie Scienze dell'educazione Della formazione E psicologia Di Fano E di tutto il territorio Della provincia di Pesaro E della provincia di Ancona In quanto ormai da anni Il jump è presente Non solo nella città Della fortuna Ma anche a Monteporzio Cappone di Vallefoglia Sant'Angelo Illizio La Senigaglia Macellata Feltria E San Costanzo E da quest'anno Anche a Montecchio Fossombrone Sterpetti Marotta E Iesi Per saperne di più È possibile telefonare Al numero 393 3241 166 Oppure visitare i siti www.poliscope.net E www.asipesaro.it Grazie a Matteo Del Vecchio E prima di chiudere Il nostro telegiornale Vi annuncio Che mercoledì sera Torna primo cittadino Il sindaco di Fano Massimo Seri Sarà nei nostri studi Per rispondere Alle vostre domande Quindi potete inviarci Messaggi, foto e video Anche con Whatsapp Al 338 49 68 250 Oppure potete intervenire In diretta Chiamandolo 0721 86 14 33 E fra poco invece Trasmetteremo Box Poi in cucina Con lo chef E a seguire Le programmazioni Di Fano TV Grazie per aver seguito Occhio alla notizia A voi tutti L'auguro di una buona serata Arrivederci Grazie per aver guardato il video